Gli affitti sono una delle voci più pesanti. L'energia elettrica, il metano, tutto il resto che sono davvero aumentati. Nella mia realtà che è piccola ho ridotto notevolmente il personale. In 11 anni, dal 2012 al 2023 nel comune di Como, sono sparite quasi 200 attività di commercio al dettaglio. I numeri sono stati diffusi dalla Conf Commercio. A Como erano 882 le imprese nel 2012, passate a 685 lo scorso anno. Il conto è presto fatto, sono 197 in meno. Di fatto, più di un negozio al mese ha chiuso negli ultimi 11 anni. Il calo più consistente fuori dal centro storico, dove si registra una riduzione di 100 attività. Basta solo passeggiare per Via Milano per rendersi conto di quante siano le saracinesche abbassate. Per tutti le difficoltà sono le stesse. Rincari pesano, il potere di acquisto dei clienti si è ridotto, la concorrenza dell'online si fa sentire e resistere. Non è facile. Le tasse davvero sono troppo alte. La seconda cosa è la materia prima, i dipendenti che costano tantissimo davvero. Le spese che sono innanzitutto l'affitto, per cui nella mia realtà mi è d'aiuto che il negozio è di proprietà, per cui non ho questo inconveniente. E poi anche l'acquisto delle merci deve essere valutato e ponderato e non abbiamo nessuna agevolazione da parte dei fornitori. I negozi che sono multimarca, che sono identificativi delle città, andrebbero in qualche maniera tutelati. Perché le catene sono quelle che possono permettersi i costi di gestione all'interno dei centri storici. In un quadro di difficoltà generali diventa fondamentale il turismo. L'80% degli incassi è dato dai turisti. Nemmeno tanto svizzeri quanto extraeuropei. E proprio i turisti sono determinanti per alberghi, bar e ristoranti. Erano, secondo i dati di ConfCommercio, 633 complessivamente a Como nel 2012 e lo scorso anno se ne contavano 585. I calcoli fanno emergere che 48 attività non sono comunque riuscite ad andare avanti. In questi 11 anni poi nelle città è cambiato proprio il tessuto degli insediamenti commerciali. Basti citare la via Pasquale Paoli, un chilometro e mezzo di strada, e più in generale i quartieri di Camerlata e Rebbio, dove la grande distribuzione ha preso il sopravvento sui negozi di vicinato, con almeno quattro supermercati, più uno in costruzione, che inevitabilmente contribuiscono a spegnere le insegne dei piccoli commercianti. Negozi che chiudono il tessuto commerciale che cambia. A livello regionale la ConfCommercio spiega che un'attività che si ferma rappresenta non solo una forte criticità per gli imprenditori e per i loro collaboratori, ma un impoverimento del tessuto urbano e sociale. Anche a Como il discorso non cambia. I rischi sono che la città si desertifichi o comunque, magari a Como non c'è totalmente questo rischio, essendo una città comunque che a livello anche internazionale interessa molto a livello di turismo, però che magari ci sia un cambiamento proprio nel posizionamento dei brand, che ci siano più catene, quindi anziché negozi storici o negozi artigianali, che sono quelli che poi possono interessare maggiormente anche la clientela straniera, che se vengono in Italia cercano un prodotto artigianale, un prodotto del luogo, e quindi il peccato sarebbe perdere un po' di questa nostra storia. Il potere di acquisto si è ridotto e poi diciamo che c'è anche molta offerta dal punto di vista dell'online e quindi anche questo è un tema che a noi diciamo che un po' preoccupa, anche se i negozianti nel loro piccolo si organizzano per avere un e-commerce, per avere un sito, per essere presenti sui social, però diciamo che non possiamo essere competitivi con la grande distribuzione. Quanto entra nei negozi dal punto di vista economico, ovviamente, dal turista? Guardi, secondo me è un 90%, direi. Molto molto alto è la presenza del turismo a Como, infatti quando mancano i turisti noi soffriamo molto.